Un campo di alta pressione insiste sul bacino del Mediterraneo centrale almeno fino alla giornata di venerdì. Vortice polare con una serie di profonde depressioni staziona alle latitudini più settentrionali. In Toscana giovedì 10 febbraio parzialmente nuvoloso, nuvoloso per nubi basse sulle zone settentrionali con tendenza schiarita e mattinata. Venti deboli meridionali con rinforzi sui rilievi, mari mossi a nord dell'Elba poco mossi altrove, temperature minimi in aumento in pianura e nei fondovalle stazionari altrove, massime pressoché stazionari. Sul territorio provinciale da nuvoloso fino a poco nuvoloso, a Lucche sulla Piana temperatura minima 4, massima 14 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 4, massima 13, a Viareggio sul litorale minima 8, massima 14 gradi. Venerdì peggioramento, dal pomeriggio piogge nevicate intorno ai 1400-1500 metri.